YOLANDA SWITZ di squishy faccine in ogni bustina uno squishy faccina ed un magazine super elastici quindi sono degli squishy tipo emoji, palline così credo che voi li abbiate già visti perché sono in edicola penso da più di una settimana probabilmente loro mi hanno spedito la scatola intera, io sono veramente molto ma molto curiosa di andarle ad aprire allora costano 3,99€ a bustina e niente quindi andiamola ad aprire adesso insieme, allora sono molto curiosa, spero non mi esca nessun doppione, allora si apre da qua non voglio andare a vedere cosa mi è uscito, andiamo prima a prendere il magazine all'interno vedete terra, vedete un mondo di faccine, che carino allora all'interno trovate tante curiosità oh youtube, stanno anche su youtube wow vedi le curiosità poi che c'è qui tante altre curiosità città del futuro animali strani quiz, disegni ed ecco le nostre faccine ci sono tante faccine oddio questa sono proprio io questa grr Daniele potrebbe dire che questa sono io forse anche pupù per molti di voi comunque mi piacciono tantissimo ma lo sapete quella che io amo e spero che mi esca assolutamente secondo voi qual è ovviamente lol quanto la amo la faccia che ride ma piange lo sapete voi c'è smile c'è pupù in love lol ops weepy grr che è l'unico che è rosso jokey kiss e blink oh mio deo sono bellesime spero tanto squishiosi allora che faccina sei ci sono anche dei quiz altri giochini ah questo De Prian è molto carino oh ma anche questi altri squishy altri squishy squishy gang ma quanti squishy ci sono wow che belli squishy gang che sono tipo di mostrilli che carini ok quindi questo già l'abbiamo aperto uno due oh mi è uscito questo che piange vedete oh quindi mi è uscito come si chiama mi è uscito weepy sentite il rumore oddio penso che dentro non ci sia nulla infatti sono vuoti allora poi c'è questo che è praticamente un gancino guardate un gancino per appenderli oh però è rumore un po' smr poi ci sono questi questi cosini qua sono molto rilassanti che belli comunque weepy mamma mia c'è proprio sad song nel primo po' che piangi ci devi piangere va bene grazie grazie squishy faccine andiamo ad aprire il secondo ti prego voglio la pupù per favore voglio la oddio eccolo però è girato oddio non ho visto qual è è uscito questo che è giochi c'è uscito giochi vedete sempre molto 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 giocoso ha la faccina con l'occhietto allora voi nei commenti fatemi sapere quale faccina usate di più su whatsapp oppure in generale su facebook messenger qualsiasi social voi utilizzate fatemi sapere la faccina che utilizza di più e che amate di più stessa modalità per quest'altro tutte e due uguali forse questo qua lo sento più morbidoso questo si raga ve lo giuro questo è un pochino più leggero questo è un pochino più pesantuccio come mai questa cosa vedete però tutte e due squishosi fanno la pallina vediamo se si squishia da dietro guardate è così comunque adesso procediamo con il terzo che è questa ti prego voglio una cacchetta no è uscita questa oddio che è ops è uscita ops io devo dire che questa qua non la uso spesso uso tantissimo l'occhiolino io su whatsapp no whatsapp no perché praticamente whatsapp non lo uso quasi mai cioè whatsapp non lo uso proprio ma uso molto spesso facebook e si mando tantissimo la faccetta che è questa qua tantissimo l'occhiolino tantissimo diciamo questa anche con daniele mando la cacchetta quindi vi prego fa che mi esca la cacchetta pregate per me voglio la cacchetta allora passiamo al prossimo pacchetto vediamo quale esce madonna vedi un altro cosino si è uscito questo col bacio chissà anche questo lo mando molto lo mando tantissimo a daniele questo questa faccina qua poi la potete appendere che non so vicino alle chiavi poi rimbalza vedete è una pallina rimbalzina poi prossimo uno due occhietti in love guardate ma dentro è vero dentro non c'è niente credevo ci fosse tipo qualcosa invece no non c'è nulla vedete però raga io la sento la differenza c'è alcuni non lo so sono più robusti tipo questo anche questo in love è molto più pesante e robusto rispetto a questo che è whippy poi li avete comprati fatemelo sapere quali vi sono usciti oddio si grrr questa sono proprio io si ci è uscito grrr si questa sono proprio io sono io sono sempre arrabbiata e daniele lo sa io sono una persona facilmente arrabbiabile quindi questo è scritto colleziona tutte le faccine e scambiale con i tuoi amici cambia la tua arrabbiatura con i tuoi amici sono sempre io molto arrabbiata questa è proprio la faccina che fa per me me la andrò a appendere sicuramente vicino da qualche parte poi vediamo prego si oh mio dio ragazzi è uscita la cacchetta mamma è moscissima sta cacchetta non è diciamo bella gonfia come questo insomma è un pochino moscina poi da dentro come potete notare anche qua dentro non c'è niente raga io sto premendo vi assicuro che dentro non c'è assolutamente niente quindi se avete visto qualche video dove aprivano ste cose e usciva qualcosa all'interno fidatevi che non c'è non c'è nulla sentite altrimenti ci sarebbe qualche rumore ma fidatevi che non ci sta assolutamente nulla qua dentro non c'è nessun liquido ma così la cacchetta io la amo la cacchetta allora poi questo cosa ci manca allora ci manca lol ci manca blink smiley ci mancano questi tre oh mio dio uno due sì blink pan 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 sì blink wow ti prego speriamo che io faccia tutta la collezione cioè mi esce almeno un doppione sopra una sfigata cioè dai almeno fatemi finire la collezione oddio blink ok perfetto andiamo ad aprire penultimo vediamo noia ma io voglio lol nooo è uscito questo no è smiley oddio lo stavo confondendo sì è smile è smiley smiley voi lo sapete che io amo e stra adoro queste emoji le vado a disegnare praticamente ovunque e lo sapete che quando faccio tipo gli squishy gli slime tutti con questa faccetta c'è sempre perché è adorabile la mia preferita oddio bellissima ragazzi allora sono stata molto ma molto fortunata perché loro me le hanno mandati diciamo casualmente potevano uscire doppioni non doppioni quindi sono stata veramente molto ma molto ma molto ma molto ma molto fortunata non mi è uscito neanche un doppione e fortunatamente ho fatto ho fatto ho fatto tutta la collezione degli squishy faccine wow vorrei vedere proprio come sono questi squishy gang chi lo sa se sono come questi sono tipo mostriciattoli guardate voi li avete comprate anche questi avete comprato questi squishy faccine fatemelo sapere sotto con un commento arriviamo a questo video almeno a 6000 like mi raccomando ragazzi fatemi sapere se questi tipi di video di spacchettamento di cose vi piace perché io sono sempre molto molto gasata ed emozionata di vedere cosa mi esce da queste bustine mi sta piacendo moltissimo l'idea dello spacchettamento di cosine dell'edicola a me veramente mi gasa un sacchissimo perché non si sa mai cosa puoi trovare cosa ti può uscire qualche doppione qualcosa questa volta sono stata molto fortunata con questo è tutto ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto fatemelo sapere con un bel pollice in su fatemi sapere quindi qual è la vostra emoji preferita qual è la vostra faccina preferita sia tra queste qua che ci sono in edicola e sia tra quelle che usate su whatsapp messenger o qualsiasi altro social social voi usiate mi raccomando attivate la notifica la campanella che è sempre molto importante per ricevere le notifiche del mio canale in descrizione trovate tutti i link del mio facebook di instagram e dello shop per comprare le mie magliette ufficiali con questo è tutto vi mando un enorme bacio da tutti voi quei cini gucciosi un abbraccio super hyper mega fortissimo noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14 e 30 con un nuovissimo video mi raccomando state connessi che ci sarà il video degli slime social quindi ci vediamo domani alle ore 14 e 30 bye bye